Anche MacDub è presente qui ad Energy Medi, di che cosa si occupa la vostra azienda? L'azienda si occupa in realtà di locazione industriale di Capannoni e nasce dal MacDub Group dall'esigenza dopo 40 anni di attività di un'azienda commerciale di gestire il patrimonio immobiliare raccolto e creato in circa 40 anni di attività di gestirlo in che modo? Attraverso la locazione industriale di questi immobili. Il problema della gestione industriale è quello del rifiuto e il MacDub oggi è diventato un esempio nella nostra realtà sociale di un'azienda che ricicla il rifiuto interno prodotto dalle aziende attraverso i sei di contratti con fornitori, che il rifiuto in questo modo diventa non rifiuto in senso stretto ma una risorsa da riempiegare nel ciclo produttivo. Come MacDub contribuisce a far sì che la nostra regione, la nostra campania sia più green? La campania è più green perché riciclando il rifiuto non va in discarica e la discarica non è un pozzo senza fine. La discarica in realtà arriverà a un punto in cui c'è una capienza e terminerà. Il MacDub occupandosi anche di questa gestione del rifiuto non va ad intasare o a finire di riempire sempre di più le discariche ma riemmettendolo quindi diventa una sorta di materia secondaria da immettere nel ciclo produttivo.